Spero di riuscire a chiudere il video prima di sciogliermi con il caldo Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi è il caso di aggiornarvi un pochino dopo un paio di mesi abbondanti anche su quella che è la situazione nel mio orto la prima grande novità, vedete già qualcosina qua dietro è il fatto che ho realizzato in maniera molto artigianale un impianto di irrigazione di quelli simili goccia a goccia vi basta semplicemente attaccare il tubo dell'acqua al tubo che vedete qui che ho messo giù e forato in corrispondenza delle piantine e mi basta semplicemente aprire l'acqua e si bagna tutto l'orto in maniera tra virgolette automatica vi faccio poi vedere nel dettaglio come sono cresciute come appunto stanno procedendo le piantine che avete visto nel primo video allora l'erba cipollina sta benissimo come vi ho detto è abbastanza facile tenerla fragole pensavo fossero andate sostanzialmente dopo averle piantate qui invece sono rifiorite ho le fragole nuove diciamo così e si stanno anche un pochino espandendo quindi dovrai avere le piantine per il prossimo anno quello che non sta decisamente bene è il prezzemolo è andato a fiore ultimamente quindi l'ho tagliato vediamo se ricresce o se dovrò ricomprare le piantine qui abbiamo dove c'era l'insalata come vedete ho già cominciato i quattro buchi che vedete cinque buchi che vedete sono l'insalata che ho già mangiato questi tre rimangono e spostandoci di qua qua giù in fondo c'era il buco che non c'era nulla inizialmente ho semplicemente piantato altre quattro piantine di insalata ho varietà diversa ma comunque sia ottimo vedete stanno già crescendo continuiamo di qua basilico ottimo come potete ben vedere stanno crescendo bene poi c'è un minimo di manutenzione da fargli ma è tutto tipo qui togliergli un pochino i fiori che stanno crescendo alle sommità e approfitto per farlo insieme a voi sedano queste tre piantine non sono grandissime diventate però insomma non c'è male passando di qua cominciamo con i pomodori questi qui sono tipo san marzano o perino adesso non so esattamente hanno sofferto un po' se vedete qui di carenza di calcio dovrebbe essere il fatto che marcisca in fondo però in teoria ho sistemato diciamo la cosa dandogli un po' un boost come appunto come concime stessa cosa di qua stanno comunque bene quelli che mi stanno dando più soddisfazione sono i pomodorini questi qui che sono i piccadilli super adesso poi andrò anche a raccoglierli e vedete stanno ne ho addirittura troppi i ciliegini gialli invece non mi stanno soddisfacendo almeno per il momento perché mi hanno fatto in modi molto molto piccoli che sono maturati solo questi per ora però insomma procedendo dovrebbero andare a maturazione anche questi qui più grandi quindi dovrebbero essere soddisfacenti anche se non come i piccadilli i peperoni ancora non li ho mangiati ma stanno crescendo bene come potete vedere qui c'è anche un bel fiorellino nascosto uno anche qua su per cui sono fiduciosa molto bene anche i cetrioli e ve ne faccio vedere un paio guardate qua uno qua sotto ne ho sicuramente che è pronto e un altro qua su da qualche parte qua questo che è caduto e adesso direi che è il caso di andarli a raccogliere bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto nel caso lasciate un like e commentate se siete arrivati fin qui con l'emoji che comparirà qua sopra se non siete iscritti vi ricordo che potete iscrivervi al canale e attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video qua sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure io e il mio bottino di oggi andiamo al fresco dentro casa ci vediamo al prossimo video have a nice life grazie a tutti grazie a tutti